benvenuti in questo nuovo video della pixelmon ciao Michele e c'è uno che salta con noi come avrete potuto intuire dal video scorso il video è andato alla stragrande siamo felicissimi che vi sia piaciuto questo ritorno improvviso della pixelmon è anche un pochettino diverso rispetto agli altri anni che ne avevamo le palle piene praticamente e soprattutto ragazzi come potevamo ben prevedere un giro intorno come avevamo potuto prevedere forse abbiamo riempito il server quindi se noi facciamo ci sono un sacco di italiani però va bene salutate il tubo adesso Michele vi andrà a dire come abbiamo pensato di fare gli episodi sui nostri canali allora visto l'introduzione bellissima che visto che credo che sia una questa parte tagliala succede più spesso di quello che pensi nei miei video questa cosa la serie potrebbe diventare molto molto lunga e non vogliamo arrivare al 120esimo episodio di questa serie abbiamo pensato di alternarci video così da fare video diversi in entrambi i canali quindi un video lo faccio io uno Joe eccetera 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 ma la non interfererà con la le puntate della serie nel senso in poche parole ragazzi questo video sarà sul mio canale come episodio 2 della mia serie il video che andremo a registrare dopo registrerà Michele come episodio 2 della sua serie quindi troverete praticamente due serie nei due canali parallele ma cioè ma video diversi esatto diverse ma uguali ok quindi in questo video noi faremo assieme delle cose poi nel video di Michele faremo altre cose quindi non saranno in poche parole se volete seguirla tutta dovete seguire entrambi i canali se non potete seguirne anche è imbroso Michele vabbè comunque qua c'è scritto è la tua prima volta Viridian vai allo shop allora io mi metterei io mi metto il waypoint Viridian city ok uno mi ha dato un orb orb caramellerare no no tieni ne una dai mi fai pena ma 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 dai due 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 tu hai l'orda ma io ho quattro eh ah ridamme hai capito per quello te lo date in questo video andremo a vedere cosa c'è in Viridian city insomma allora welcome to Viridian city ok home of the earth badge ok c'è la palestra di tipo terra però dobbiamo seguire questi blocchi d'oro per andare allo shop perché penso ci dia qualcosa ci dia un allenatore qua c'è il poke center tra l'altro un tizio mi ha droppato a casissimo queste qua tieni tutte le tue le scappette da corsa si 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 oh mio dio che figata quindi avremmo ma quindi avremmo anche le biciclette poi penso di si oddio non lo so eh credo free pokeballs ehi oh eh si te ne hai dato 5 5 pokeball eh so già 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 io ne ho 10 mamma mia ve l'ho presa anche l'altra volta mamma mia store clerk shop clerk vende le pokeball le premier ball le greet ball ma come li vediamo i nostri soldi scusa allora slash balance balance forse si no 50 io di dollari e come si prendono non ne ho idea forse uccidendo i pokemon non droppateci tutte queste cose è andato un fossile store clerk ehi ma no ma no smettete di dropparmi le cose raga fateci fateci giocare vi prego allora store clerk che cosa fai tu ah questo qua ti saluto mi ha dato un libro eh anche mi ha dato un libro ok bisogna darlo al professor rock esatto si allora aspetta aspetta shop center vediamo un attimino qua vende pozioni delle pozioni pane ma non ci cala la fame a che serve il pane ma guarda le scarpette da corsa dove qua le vendono torniamo dal professor rock dagli libro allora 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 credo che sia questo libro normale a questo punto che non ah dice proprio questi item si 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 sopra ma che figate hai fatto un sacco bene infatti dobbiamo andare dal professor rock secondo il libro delle quest quindi andiamo 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 comunque sono impressionata io ho paura che nei percorsi si trovino i pokemon proprio come nel gioco quindi nel percorso iniziale si troveranno i rattata i pj queste cose qua e poi c'è un arbok e poi c'è un arbok un drapion qua gigantesco ma l'hai visto quel charizard shiny nero tipo no era bellissimo come faccio a dagli il libro ok premi il libro e tasto adesso con il libro in mano oh ok vediamo se ci ha aggiornato le quest no non ce le ha aggiornate ci ha dato il pokédex il pokédex il pokédex che figata abbiamo una nuova missione andare a pewter city attraverso la foresta e sconfiggere brock mamma mia veramente le cose belle e abbiamo anche delle altre pokemon io ne ho 16 ma andiamo a catturare qualche pokemon io ne ho 11 qua c'è uno slobro slobro rosso andiamo a catturare qualche pokemon io non voglio avere solo mudkeep in squadra cerchiamone qualcuno figo tipo vicino a viridian city ok allora cosa proponi raga guardate qua però cioè l'infermiera joy quanto è figa quanto è figa tra l'altro e sopra c'è la zona del cioè sono proprio degli scambi che bello è proprio fatto uguale esatto è bello non sono cose che spawnano nella pixel mon normale ma sono proprio fatte da loro esattamente cioè complimenti complimenti vieni qua vediamo un po' cosa c'è di alto io volevo vedere qua c'era un lag ah ok c'è la cosetta andiamo a casa che sono curioso in realtà vediamo chi c'è questa qua è casa di non c'è nessun cartello quindi apparentemente di nessuno c'è duplica chi sei? oh c'è una master ball guarda dove? qua sopra ce n'è una anche là sopra una si vigor fascia ah ma ci hai parlato con duplica è una di quegli NPC stupidi che ti dicono sempre le stesse cose ah che bel costume giocaglia si infatti che bel costume giocaglia grazie che begli occhi che ha duplica la fa un culo duplica dai andiamo andiamo vabbè abbiamo capito che questa casa è inutile praticamente ok infatti praticamente qua dietro c'è ui qua c'è la route 2 no aspetta vieni nella route 2 c'è un pokemon bello che voglio catturare ah no è di un allenatore niente scherzavo 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 tu sei scemo qua c'è un pj ma non mi frega un cazzo dei pj oh water jam la vuoi? eh ma ne ho due ah vaffanculo uno pensa a te ma non lo so che carina grazie guarda cosa c'è qua quando potremmo fare le sfide ma che figata oddio ne facciamo una o rimaniamo eh no c'è stato coming soon ah ok cioè vabbè però possiamo metterci uno da una parte e uno dall'altra lottare però non è implementato un sistema di combattimento figo però direi di aspettare un po' ma più che altro l'abbiamo fatto poi nello scorso video dobbiamo aspettare i commenti ricordiamo ragazzi nei commenti diteci degli obiettivi o delle challenge da fare tra di noi no quindi potremmo la palestra la palestra è questa? sì ma guarda la colonna mezza distrutta ma come cavolo hanno fatto? ma no è troppo figa questa cosa teleporting? oddio le pressur plate mi teletrasportano guarda giù perché c'è un laghetto con un tizio al centro non ho capito mi è sembrato un pescatore magari ci dà la canna da pesca ma no mi sembra troppo presto però vediamo sono al laghetto non è al centro il tipo come no? cosa dici? c'è un pescatore al centro ma dove lo vedi? qua michele non c'è fisherman giorgio michele non c'è si chiama giorgio il pescatore michele non c'è davvero non lo vedi? michele non c'è michele giù sei baggata nell'anima io basso ma tanto guarda che non puoi farci niente non puoi né scrivere né parlarci vabbè lì c'è una master chess comunque dove? ah dall'altra parte è vero è vero è vero qui c'è un vialetto raga è veramente figo però ci ha detto di attraversare la foresta ok questa ti sembra una foresta? dove cazzo sei giù? qua oh mi ha dato un braccialetto vigorlente dove l'hai trovata? qui ma non è vero eh sì a me dice che l'ho già preso e non me l'ha dato vigorlente non è giusto allora dobbiamo affrontare un bosco non lo so se questo qua davanti è un bosco cioè non mi sembra tanto il bosco forse è più la strada 2 quella che dovremmo seguire no michele ti ricordi che strada è questa forse? ahah quella che poi porta la lega quella di sì quella di fine gioco ti ricordi? oh può darsi infatti dobbiamo andare in ordine questo scusa dovrebbe essere pokemon rosso fuoco vero? cioè canto è pokemon rosso fuoco verde foglia sì esattamente oppure pokemon rosso blu e verde dove è il coso 2? qua 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 il percorso oh un'altra master no quella l'ho già presa capito? perché non arrivavo più root 2 qua michele bisogna cliccare le cose vai 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 sì è ora il bivio la scelta ma in realtà abbiamo una minimappa quindi vediamo da dove passare ma in realtà qua è un cerchio oddio che c'è qua dentro no niente in realtà questo qua è un cerchio qua c'è un cartello vabbè percorso 2 ah l'ho preso anche io psicoshock il cartello è semplicemente il nome del percorso ah ok non ci diceva tipo la direzione la città no dobbiamo seguire qua il percorcino nido run maschio oh pikachu un pjl 7 dove hai visto pikachu? ma davvero? sì perché? ma lo stai catturando? ci provo ma che figata io non lo vedevo neanche considera dov'è? non lo vedo più ah fammelo intanto io sono però lo sento no vabbè ascolta tu sei livellato ma pikachu dove sei? no raga io sento pikachu io sento pikachu io lo sento io non lo vedo considera sto confinché eccolo qua un altro minuscolo minuscolo non lo voglio così piccolo però lo vedi? non puoi avere sempre i pokemon più grandi guarda lo vedi? guarda vieni qua da me aspetta che ok l'ho ucciso e sono al 9 mamma mia guarda qua lo vedi? è minuscolo dai catturatelo è un topino catturatelo non lo vuoi te? no io batto nido era maschio ok ma si è trovato qua ma che figata ma nido run c'era in questi percorsi iniziali? non mi ricordo mi sa che pikachu mi ha abbandonato malissimo ma io li sento eh io sento esatto non lo vedo dai buttalo giù fammi salire a livello 10 intanto io vado ad esplorare un secondo per capire se è questo il posto in cui dobbiamo andare vidian forest si 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 è qua ok milo i pokemon che c'è tipo c'è esattamente quel coso che c'era sempre tra una città e l'altra in cui puoi lari i pokemon oddio no vabbè lì non c'era no non potevi larli esatto però c'era il poliziotto esatto dov'è? c'è la skin per caso dov'è il poliziotto? no no non ci sono i poliziotti però c'erano nel gioco peccato vabbè io curo i pokemon possiamo andare dentro la foresta se vuoi eh va bene ma si ma ci entriamo ci sono dei weedle ci sono esattamente i pokemon che si trovano oh wow wow c'è un pigiotto ma guarda che figata ma sono esattamente quei pokemon ma è bellissimo non me l'aspettavo non me l'aspettavo proprio no ma neanche io per niente qua davanti abbiamo una struttura comunque ma guarda per terra guarda per terra ci stanno i cosi le cisele cosi strane oh ma qua c'è un oggetto c'è un oggetto no aspetta no aspetta 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 Joe Joe vedi dalla minimappa che qua c'è tipo una cosa nascosta nella foresta si una struttura vero? si secondo me c'è un modo per passare si dobbiamo eh no è al ritorno vedi che ci sono i dossi da saltare dici? eh si guarda nella minimappa ma sarebbe geniale come cosa no ma non a destra tipo a sinistra guarda però non stai lottando quindi però la vedo comunque la minimappa attendi come attendi l'ho battuto metapod eh lo so è che ogni tanto tira un po' di lagate perché la pixelmone è parecchio pesante e quindi boh gli dice attendi inutilmente oh ha trovato il posto Joe Joe c'è un posto magico incantato aspetta io sono bloccata si dovrei aver battuto Kent ma Michele ha trovato qualcosa guarda 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 c'era che l'ho trovato questo grande segreto però c'è un posto magico incantato che è tipo un laghetto fico non so quale sia l'utilità di questo laghetto un laghetto figo ma dove sei? mi hai perso no ma io pensavo che mi seguisse aspeggio qua ah ok ok credo sia un segreto in qualche modo io ti ricordo che qua in questo bosco in teoria appariva un po' come un leggendario infatti c'era Celebi non vorrei che fosse quel laghetto tipo cose del genere però non sapevo se potesse passare qui in mezzo vabbè nel gioco non si poteva passare però noi passiamo beh allora proseguiamo se sblocchi un evento strano ti appare davvero Celebi là sarebbe fighissima come cosa Michi 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 eh vediamo se riusciamo a raggiungere questa struttura quale? quella a destra? se no ma penso che avevi ragione di te prima dobbiamo raggiungerla per forza al ritorno cioè dopo aver passato questo confine tipo non mi fa passare guarda come cerchi di fare ah che vabbè passando ai lati esatto allora passiamo di qua io curo i pokemon perché appunto ho combattuto e non so come sono mess cioè sì ok i punti vita sono pieni ma va bene anche io 23 abbiamo lasciato delle cose dentro le ceste per liberarci un attimo di inventario che se no era un po' un casino esattamente non ho più trovato poche ceste però se noti no è vero non ci sono più però e quella è la struttura Michi oh è vero però come la raggiungiamo eh forse non è vero qui siamo nella città se non sbaglio dove c'è il cerchio fossili ah se è Pewter City ok Pewter City fantastico vieni vieni Michi Michi sì ma vieni vieni la vediamo nel prossimo video è la città guarda intanto dove cioè la vediamo nel tuo video dove sei qua dove sei eh non lo so qui dietro di te dietro di te dietro di te dietro il masso di pietra ah ok 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 infatti guarda c'è un percorso qua ah ah guarda 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 velo molto molto velo molto molto figo guarda dove ci porta dove ci porta secondo te oddio ma che strano ma dove cazzo porta sto sentiero non ne ho idea ma sai quanto ci perderemo Gio la cosa bella è che arriveremo a un punto in cui potremo volare forse se non l'hanno disattivato in teoria cos'è sta piattaforma qua c'è un pozzo non sembra far parte delle città sembra quasi una cosa un po' a parte esatto cioè come se fosse boh una zona di pokemon strani boh palestre strane no palestre boh non lo so e poi lì c'è una specie di boh sembra un tipo un sentiero qua c'è uno spawner di Magikarp cosa? vedi questo coso intanto siamo mob spawner guarda che figata oh mio dio Michele oh mio dio Michele non lo so wow wow non ne ho la più pallida idea scendi dall'altra parte scendi dall'altra parte cazzo di figata si si scendo da questa parte guarda che bello poi il pavimento anche cosa cavolo è? sembra un trono ma cosa serve? anche qua servirebbero conoscenze della lore di pokemon per dire cosa è di preciso sto posto se voi lo sapete se voi lo sapete scrivetecelo nei commenti se avete qualche ipotesi oppure avete la certezza di cosa sia questa roba cioè sembra non capisco se non ho idea ditecelo nei commenti raga perché comunque è una cosa del server non riguarda il gioco si infatti quindi se conoscete il server ci avete giocato ci state giocando lo scoprite prima di noi fatecelo sapere e ragazzi nel video di Michele invece che ripeto sarà il secondo della sua serie non sarà il proseguimento della mia di questa parte qua andremo a visitare dove minchia sei Michele mi sono perso c'è un pigiotto al 13 ma dove? qui c'è un cerminolo al 21 però è di un tizio no mi è volato via no mi è frottuto la pokemon io? ho stato sì ma davvero? ho chiuso non ho fatto questa vabbè fa niente vabbè non importa ragazzi nel prossimo video quindi quello di Michele passate sul suo canale lo troverete parallelamente al mio quindi usciranno praticamente assieme troverete il video dove andremo a esplorare Pewter City Pewter City e andremo a sconfiggere anche Brock cioè si spera si spera per lo meno ci proveremo almeno dai quindi se il video vi è piaciuto lasciate tanti tantissimi like tantissimi commenti passate dal canale di Michele ci vediamo quando con il prossimo video non lo sappiamo ancora perché non abbiamo penso stabilito di quanto faremo uscire questi video possibilmente cercheremo di farli uscire uno ogni giorno oppure non lo so appena lo sapremo ve lo diremo su Telegram non vi preoccupate è tutto a posto vabbè ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao senti ma stavo pensando una cosa no ciao ciao Grazie.